Ciao, sono Lucia Pareti, mi occupo di eventi e comunicazione a Miano e da molti anni conduco un programma su Radio Incontri in Bocortona che parla di cinema. Vista questa passione in comune, da diversi mesi ho accettato molto volentieri di partecipare, di collaborare ogni settimana alla realizzazione di film alla radio. Nel podcast mi occupo delle curiosità che riguardano i film, quindi su vari fonti trovo ed elaboro le particolarità che riguardano i film, quindi interpreti, riprese, regista, ambientazioni, tutto quello che c'è di insolito dietro al prodotto finale che vediamo al cinema appunto. Il film alla radio è un programma corale, un'esperienza di squadra in cui ognuno di noi mette le sue peculiarità in servizio dell'altro. Sono una cinefila e mi piace l'idea di poter esprimere questa passione attraverso la radio. Film alla radio è stata un'opportunità in più perché da un'esperienza individuale ho potuto sperimentare questa nuova opportunità, diciamo, di questo progetto di squadra. Ed è proprio un gioco di squadra perché ci confrontiamo sui testi, sui contenuti e cerchiamo di incuriosire il pubblico e di farli conoscere anche i film meno popolari, puntata dopo puntata, film dopo film. Vi saluto da Milano e a presto!